180 minuti per capire se la svolta è reale perché il Foggia che con la cura gallo sembra essersi messo sulla buona strada per uscire dal tunnel è atteso da due sfide sulla carta alla portata che potrebbero dare un senso diverso al suo campionato. Sabato allo Zaccheria arriverà la Fidelissandria, otto giorni dopo i rossoneri renderanno visita alla Viterbese. In casa Foggia però, come giusto che sia, si preferisce guardare ad una partita per volta e di questi tempi il diktat impartito da Gallo ai suoi è quello di evitare di soffermarsi troppo sulla classifica. D'altronde c'è ancora tanta strada da fare e per recuperare quanto perduto in avvio bisognerà assolutamente correre. Contro la Fideliss, Gallo che attorno al 3-5-2 ha trovato la quadra ai giusti equilibri, dovrà fare a meno di Vutai, squalificato per un turno dopo il doppio giallo di martedì a Castellammare di Stabia. In attacco il tecnico rossonero dovrà scegliere chi affiancare a Dursi. Scalpita o Gunzeie, ringalluzzito dal gol messo a segno al Menti, ma non va scartata nemmeno l'opzione ton-in che lo stesso allenatore rossonero sembra tenere molto in considerazione. Tutti dubbi che il tecnico scioglierà negli ultimi allenamenti che separano dalla sfida di sabato pomeriggio, sfida che si giocherà ancora alle 14.30.